La prima volta avevano fatto sosta ad Arezzo nel 2006, poi ci erano tornati nel 2010 e di nuovo hanno fatto tappa nella città di San Donato quest'anno. Sono i ministranti della diocesi di Dresda Meissen della Germania orientale, giunti in massa in città a conclusione di un pellegrinaggio in Italia. Ben 860 chierichetti che hanno sfilato in preghiera intorno all'arca di San Donato, secondo patrono della loro diocesi. La nostra diocesi siamo soltanto 4% cattolici, nel paese 3%, allora sono la minoranza. E di sentire tanti altri chierichetti con la stessa fede è per loro così importante e di sentire, non sono da solo, come giovani, di proclamare questa fede e di andare avanti. Cosa l'ha colpita maggiormente delle parole dell'arcivescovo di Arezzo in questo incontro qui nella cattedrale? L'affetto. L'affetto che lui ha avuto a noi, ma penso anche viceversa. Di essere nella fede così profonda assieme e io sentivo, come ho detto, siamo adesso, penso, più legati tutti i due diocesi. Anche adesso, come abbiamo sentito a San Leo, i parochiani là hanno per noi fatto le buste della cena e della colazione, quasi 1800. È un grande dono, è un segno del cielo. Questo è il cristianesimo.